La Roma ha appena chiuso la trattativa per Diego Llorente dell'Itz Ma vi dico cosa seriamente penso Vi dirò, è un acquisto che a gennaio ha senso Gli dai un bel 6 come vuoto, 6-6,5 Ti serve per coprire un buco in difesa Visto che c'è tre competizioni da portare avanti E c'avevi solo Cumbulla come alternativa Sostituirà il partente Vigna per il Borno Molto meno silenzio per il mio pupillo Mattias Vigna Mi dispiace tantissimo È cresciuto nel Real Madrid E in quel periodo in cui stava nel Real Madrid C'era José Mourinho come allenatore Quindi molto probabilmente lo conosce Ti può dare una mano in difesa Soprattutto nell'impostazione Visto che i tre centrali non sono molto abili con i piedi Lui è molto abile nell'impostazione Soprattutto nei lanci lunghi Il problema è che è più abile nei lanci lunghi Che probabilmente a difendere Però si può sempre migliorare in Serie A la marcatura Un'ottima alternativa Un'ottimo 6 a gennaio Quel solito difensore che arriva a gennaio Che probabilmente a giugno scomparirà nel nulla Ma va bene dai Dopo la sconfitta ieri sera Però almeno abbiamo notizia di acquisto di mercato Dirmi cosa ne pensate di questo calciatore Nei commenti A me non dispiace